L'assessore all'istruzione della regione Campania, Lucia Fortini, ha comunicato la roadmap del rientro a scuola dal prossimo gennaio. Dall'11 gennaio rientra tutta la scuola primaria, ha spiegato l'assessore Fortini a Lanza, poi valutiamo i contagi e proseguiamo. Il 7 gennaio riprenderemo con le prime e le seconde elementari, poi valuteremo la curva dei contagi, ricominceremo lo screening degli alunni e avvieremo una riapertura graduale. Il piano di rientro prevede piccoli passi scaglionati che saranno analizzati dall'unità di crisi regionale prima di essere attuati. È un percorso condiviso, spiega la Fortini, anche con le parti sociali ed infatti mercoledì ho una riunione con i sindacati per fare il punto prima della riunione con l'unità di crisi nei primi gironi dell'anno nuovo. Porterò un mio percorso che prevede dall'11 gennaio la riapertura di tutte le classi della scuola primaria, poi dal lunedì successivo, il 18 gennaio, tutte e tre le classi della secondaria di primo grado e dal 25 gennaio la secondaria di secondo grado.